Dovrà rispondere alle accuse nel corso del processo. È stato emesso il decreto di citazione nei confronti dell'ex amministratore giudiziario di un'azienda locale d'autotrasporto negli scorsi anni finita sotto sequestro dopo le accuse di mafia rivolte tra i titolari successivamente prosciolti. Il professionista, un avvocato che ha svolto attività anche a Palermo, venne scelto dai magistrati per portare avanti le attività aziendali. I proprietari però ritornati nella disponibilità del gruppo si trovarono a dover fronteggiare un passivo finanziario da quasi un milione di euro dopo aver lasciato in cassa un attivo da mezzo milione. In sostanza non sono stati più in grado di riprendere pienamente la loro attività. L'accusa principale mossa all'ex amministratore giudiziario è di appropriazione in debita. I PM quindi ipotizzano una distrazione dei fondi aziendali. La mole di debiti successivamente accumulati avrebbe riguardato sia i rapporti con i fornitori sia quelli con il fisco. I proprietari dell'azienda a questo punto potrebbero scegliere di costituirsi parti civili nel giudizio che partirà a novembre.